Sì, il lobo! Sì, il lobo è il stato di prima categoria! Quello mio, io tu cuglione a testo. Oh, non ho il cuglione, a te il cuglione! Da, prendo la pette! Che hai il cuglione a te? È fatto il cuglione subito! La cuglione ha finito andando a pavare i sport, ha parlato pulito. Come ti comporti tu? Io, io con un po' tutti i venti mi comporto. Va cazzo, segretario Capullino. No, non hai bisogno di servire! La cerca Oriana! La cerca Oriana! Oh, non hai bisogno di servire! Non hai bisogno! Vai a cercare Oriana, vai a cercare Oriana, vai a cercare Oriana, vai a cercare Oriana e c'è l'unità di mille, la Comune di Cattore di Caracchia. E' un'unità di 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 una comunità. La Comune è finita, dai, buono, basta! Il segretario è che fuori a casa, basta! Basta! Sei il posto! Sei il posto! Sei il posto! Tu che hai detto quel giornale! Di persi! Certo! 5.000 euro! Tu ti ripetereci mio ogni posto! Perfetto! Sei il merda sei! Sei il merda sei! Capo di casa per fare stranaglio? No! Tu ti ripetereci! Ti ripetereci! No! Ti ripetereci! Ti ripetereci! Ti ripetereci! Sei nulla sei! Benissimo! Che avvocato? Sei nulla sei! A casa mia questi modi non si usano! Se no chiudo la sala e ti butto fuori! Ti butto fuori! Io l'ho usato! Allora Silencio a casa mia queste cose no! A casa mia! No! Ti puoi curare! E tu! Entri dentro! Sono condannati qua dentro! Se ci sono condannati ci posso stare anch'io! Tu sei un condannato certo! Ci sono condannati certamente ci ci puoi stare perché sei anche pregiudicato! Sei anche pregiudicato! Per l'era vi cazzo devo capire! la correttezza impone che noi stiamo facendo iniziative aprile il testamento a ottobre perché questo partito non di finanza dovete essere si chiama i carabinieri capo di casa chiamali mi fai molto piacere no chiami i carabinieri è lo spirito che noi ci siamo dati e che vogliamo dare a questo campione è chiaro che nessuna provocazione non è nessuna provocazione per dire a un grande partito di poter lavorare lavorare ed impegnarsi anche perché in questa nostra provincia caro Giuseppe questa nostra provincia è una provincia difficile è una provincia dell'altro ieri l'arresto del super latitante gerlandino Messina è stato trovato catturato dopo una brillante operazione condotta dai carabinieri a Favara qualche settimana prima la polizia aveva catturato l'altro boss super latitante Giuseppe Fazzone che risultano sotto il controllo diretto o indiretto della mafia questo ci divelano le inchieste giudiziarie allora noi abbiamo il dovere di farci portatori di una nuova mobilitazione anti-mafia noi dobbiamo preoccuparci laddove governiamo rischia di non essere di non essere sufficiente perché io ricordo quando è uscita la notizia dell'avviso di garanzia allora ho detto una frase non sono io che faccio sono i funzionari che predispongono i bandi e i regolamenti e allora se da questi bandi e da questi regolamenti discende l'infiltrazione della mafia allora noi oggi soprattutto oggi noi Partito Democratico che stiamo affrontando anche la sfida del governo alla regione questa nuova giunta fatta di puntare i fari su come la stesa pubblica regionale